Sono stati citati direttamente a giudizio i presunti responsabili del furto perpetrato nello studio professionale del fotografo sulmonese Angelo D'Aloisio. Si tratta di SP di 64 anni di Napoli, attualmente detenuto nel carcere di Poggio Reale e AA, 63enne di Rossano. E' entrambi la procura della Repubblica di Sulmona, contesta il furto aggravato. Erano circa le ore 13 del 26 giugno 2019, quando i due, in concorso tra loro, dopo essersi introdotti nell'esercizio commerciale di D'Aloisio in via Circonvalazione Occidentale, si impossessavano di più attrezzature fotografiche del valore commerciale di 15.000 euro, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nel manomettere, mediante arnese, la serratura del portone d'ingresso. Le indagini della squadra anticrimine del commissariato di Sulmona, coordinata all'epoca dei fatti dall'ispettore superiore Daniele Lerario, partirono dagli occhiali che i ladri frettolosi avevano lasciato sulla scrivania dello studio fotografico, una dimenticanza che fece scattare gli esami del DNA che diedero essito negativo. Alla fine due malviventi furono incastrati dalle telecamere comunali. Nel perimetro che va da Via Patini a Porta Napoli, la polizia ha ricostruito i movimenti della stessa auto che sarà avvistata per ben tre volte in ingresso e in uscita con i due individui che si aggiravano poco distanti dall'attività. Dalla targa della vettura sono state quindi effettuate nuove verifiche che portarono all'identificazione dei ladri. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 17 gennaio 2022. Le forze dell'ordine hanno fatto il loro lavoro e hanno individuato i responsabili. Io però non ho ancora recuperato la mia attrezzatura e il danno, soprattutto in questo momento di pandemia, si sente e come, commenta D'Aloisio. Del fatto se ne parlò molto in certà perché non si trattò di un semplice furto, considerato che quelle attrezzature servivano per promuovere la stessa città e il territorio attraverso le inconfondibili foto della pagina One Shot Live.